Il terzo è che avremo nostalgia nei prossimi giorni perché quando andranno via tutti gli attori, tutti sentiranno un voto, quindi siete diventati come una famiglia per tutti noi. Per cui grazie, a nome della città io ringrazio Michele Pacino e gli amici per aver scelto e fatto questa scelta con molte virgolette per la nostra città.